Siamo nella città di Corigliano Rossano e affrontiamo una serie di questioni attinenti anche alla responsabilità oggettiva o soggettiva, questo lo capiremo da qui a poco, della pubblica amministrazione in materia sanitaria quando si tratta di episodi riconducibili a negligenze, a superficialità o ad atteggiamenti altamente discutibili sotto il profilo penale in prima battuta, ma poi ovviamente ci sono situazioni anche di danno all'erario quando tutto questo si traduce in un qualcosa di civile. Ne parliamo con l'avvocato Francesco Nicoletti del Foro di Castrovillari. Avvocato, grazie di aver raccolto il nostro invito. Grazie a voi per l'invito. Dunque abbiamo avuto modo, come dicevamo avvocato, di ascoltare questa testimonianza importante e significativa del cirotano. Da queste nostre parti, in queste ultime ore, vi è stata una vile aggressione di un paziente psichiatrico nei confronti dell'aggredito che oggi, in queste ore, ancora oggi, lotta tra la vita e la morte. Secondo le notizie di stampa da noi assunte, abbiamo avuto anche modo di riscontrare come l'aggressore fosse un sospetto Covid ed in quanto Tade non poteva essere in un'area, in questo caso l'ospedale di Corigliano, il guido compagna, non Covid. Ragion per cui non poteva essere in quel momento lì, in quel luogo, sottoposto a tampone ed in attesa dell'esito. Ora, attendendo gli sviluppi, i riscontri, ci sono delle indagini in corso e abbiamo pieno rispetto ovviamente della magistratura a tal riguardo, a distanza, estreniandoci dal caso di specie, quando si verificano queste situazioni, i limiti di responsabilità, dove iniziano e dove si concludono, relativamente alla pubblica amministrazione, al di là dell'aspetto specifico che possono poi essere tramutarsi lesioni personali o quant'altro. Stiamo vivendo sicuramente un periodo drammatico, un periodo dove gli operatori sanitari e non solo loro si trovano a combattere non soltanto con la pandemia che è ancora in corso, ma anche con situazioni personali e soggettive che necessitano appunto di cautele particolarissime. Purtroppo chi in questo momento è a contatto con il pubblico, nel senso fisico del termine, si trova esposto non soltanto appunto al virus che circola ancora, ma anche e soprattutto agli stati d'animo, di stress, ai quali queste persone sono combattute, sono afflitte da situazioni particolarissime. Ci sono delle responsabilità sicuramente, perché la persona che è l'aggressore, che è sospetto Covid, che stazionava nei luoghi del pronto soccorso certamente non poteva trovarsi lì in quel momento. Però c'è da dire anche, facendo un discorso a monte, che è una situazione ingestibile e ingestita da parte di chi avrebbe il dovere in questo momento di fare i controlli, di selezionare gli accessi. Perché? Perché non ha gli strumenti, non ha gli uomini, non hanno le capacità di poter consentire un adempimento letterale di quello che è, non l'accesso, ma la procedura intera relativa a tutto quello che riguarda non solo il pronto soccorso, ma quello che sta accadendo. Sotto il profilo penalistico, l'aggressore probabilmente risponderà dei reati a cui facevamo mandato il riferimento prima, ma solitamente l'attività di indagine si ferma lì o va oltre per individuare eventuali responsabilità o corresponsabilità in concorso per il fatto che in quel momento l'aggressore non poteva essere in quel posto? L'attività di indagine sicuramente si fermerà sulla materialità del fatto, sulla capacità di intendere e di volere di questo soggetto nel momento in cui ha compiuto questo indegno atto criminoso. Poi laddove ci dovessero essere da parte dei familiari della vittima al cui va il nostro in bocca al lupo di pronta guarigione, degli accertamenti specifici relative ad eventuali omissioni, relative all'accesso o non accesso nei locali del pronto soccorso, a quel punto la giustizia dovrà fare il suo corso anche analizzando altre ipotesi di reato. Senta Avvocato, in queste ultime ore abbiamo avuto modo di apprendere dalla stampa probabilmente l'effetto pandemia, ma sappiamo anche di altri casi di violenza esercitati sul personale sanitario prevalentemente nel pronto soccorso nel corso degli anni, a dire la verità, di aggressioni verbali e fisiche avvenute. Nel caso di specie abbiamo appreso dalla stampa l'Avvocato Nicoletti, tra l'altro difende il medico che ha subito delle aggressioni verbali, in questo caso da una collega che esercitava attività analoga presso il pronto soccorso di Cosenza. Probabilmente un clima di tensione esacerbato per via di questa pandemia, ma le parole che abbiamo letto sulla stampa diciamo riconducono ad una violenza verbale piuttosto acuta. È frutto di uno stato di tensione complessivo o c'è talvolta tra operatori che sono in trincea una tensione tale da poter arrivare certe volte a fare determinate affermazioni? Ritengo sia palpabile tra coloro i quali stanno vivendo in prima persona questa tragedia, questa disumana vicenda che si sta consumando soprattutto negli ospedali. C'è chi si è dato alla fuga, come nel Catanzarese, abbiamo letto di centinaia di certificati medici rilasciati per far sì che operatori sanitarie non facciano quello per cui sono pagati e poi abbiamo l'esperienza ormai storica di gente che ha dato la vita per curare, per salvare il prossimo e per essere fedele al giuramento di Ippocrate. Certo si vengono a creare delle situazioni surreali, reali, gente che è costretta a combattere a mani nude, perché purtroppo non ci sono strumenti, strumentazione, personale qualificato ed ecco che in questi ambienti, in queste situazioni si possono venire, si creano dei disguidi, chiamiamolo così, che alle volte purtroppo sfociano anche in vere e proprie aggressioni che devono comunque essere poste al vaglio di chi di competenza. Spesso frutto di una precarietà di gestione dell'amministrazione sanitaria. Noi abbiamo avuto modo in Calabria, specialmente da queste nostre parti a dire la verità, di ravvisare una polemica anche questa un po' esacerbata negli animi nella società civile circa la violazione di alcuni circolari ministeriali, ma anche disposizioni regionali. Non si dovevano realizzare i Covid negli ospedali Spock, sul Rossano ad esempio questo è avvenuto. Tutto ciò determina una sorta di precarietà e anche di vulnerabilità del sistema, perché purtroppo nella fase acuta del processo Covid ci sono stati percorsi definiti, dedicati, ma promiscui negli ambienti, quindi era di facile a rischio, diciamo, contagio. Ecco, questo clima di precarietà incentiva anche un clima di tensione a tal punto poi da creare uno stato di nervosismo generalizzato. Precarietà, inadeguatezza, improvvisazione, di quello stiamo parlando. Ormai Corliano-Rossano negli anni è una città depositaria di strutture che possono solo danneggiare e fare del male ai cittadini di Corliano-Rossano. Centrale Enel negli anni, carcere, qualche anno fa centro di smistamento per gli immigrati, ora centro Covid, immagino tra qualche anno sarà deposito per spazzatura nucleare. Mi viene in mente di tutto, di più, perché ormai Rossano è stata veramente declassata nella maniera più ignobile per colpa dei politici che abbiamo e che abbiamo avuto naturalmente. Centro Covid a Rossano, certo, come no? Corliano-Rossano è il lazzaretto d'Italia, perché a quello ci ridurremmo nel momento in cui non abbiamo la struttura, non abbiamo attrezzatura, non abbiamo personale qualificato, però facciamo venire tutti i positivi o sospetti positivi di tutto il territorio per far sì che Rossano, Corliano, diventi un vero e proprio lazzaretto dove non verranno neanche più i caschi blu a permissioni umanitarie. Nelle ultime ore, tra l'altro, vi è stata una denuncia di una signora che si è recata presso lo stesso pronto soccorso sempre di Corigliano, ritiene e dichiara di aver assunto il virus, da qui trasmesso ad altri familiari. Noi abbiamo già fatto una trasmissione sul tema della ipotesi di reato specifica di epidemia colposa. Siamo in una fase in cui fortunatamente è meno aggressivo il virus, quindi questa tematica sembra essere un po' derelato rispetto al tema centrale attuale, però nella fase topica la preoccupazione c'era. Questa tipologia di reato che in Parlamento qualcuno tendeva un po' di destrutturare in termini di efficacia, è percorribile a suo parere? Certamente percorribile perché se dovesse essere accertato che ci sono stati di contagi volontariamente trasmessi ad altre persone, volontariamente, perché nel momento in cui una persona è consapevole di essere malata, è consapevole di essere positiva e sta a contatto anche con propri familiari. Attenzione, non sto dicendo che deve necessariamente andare a fare la spesa piuttosto che la passeggiata, piuttosto che il giro in bicicletta, ma nel momento in cui è consapevole del fatto di avere la malattia, perché di quello stiamo parlando, di quello stiamo parlando e volontariamente sta a contatto con il marito, con la moglie, con i figli, è reato, perché dovrebbe, deve necessariamente isolarsi, perché ritengo sia essenziale bloccare la veicolazione del virus proprio iniziando dall'ambito familiare, parentale, amicale. In questo, e chiudiamo perché purtroppo il tempo è tiranno in questa circostanza, il sindaco che è la prima autorità sanitaria a tutela del cittadino, che poteri ha? Il sindaco ritengo che abbia esercitato nel modo più intransigente tutti i poteri che la legge gli metteva a disposizione e ha agito correttamente dal mio punto di vista. Se non avesse operato scelte anche impopolari, ritengo che il virus avrebbe avuto una diffusione maggiore e comunque ha agito in linea con tutti gli altri sindaci, con tutti gli altri che avevano i suoi stessi poteri a livello istituzionale. Senta, proprio un'ultima battuta, come legale anche, insomma, c'è stato questo scontro anche conflittuale dal punto di vista istituzionale, regione, governo, riguardo a un conflitto anche di competenza sulle ordinanze. Alla fine vince il governo Conte rispetto all'ordinanza della Santelli. Avvocato Santelli. Io ritengo che perdiamo tutti, perde il governo Conte, perde il governatore della Calabria perché è la dimostrazione, la prova provata, tangibile di come viviamo nel caos. Ogni giorno arrivano delibere, ogni giorno arrivano ordinanze, poi dobbiamo chiedere l'interpretazione autentica del pensiero, se è quello di Conte, piuttosto che quello della Santelli, piuttosto che quello del sindaco di Rossano. Non sappiamo a quale santo votarci. E la stessa cosa viviamo nella giustizia. Lei considera che noi, io personalmente, quotidianamente, proprio da oggi, perché da oggi c'è in via ufficiale la ripresa dell'attività giudiziaria, combattiamo con i protocolli di Crotone, Cosenza, Paola, Catanzaro, Reggio Calabria. Ogni tribunale, ogni corte d'appello ha un proprio protocollo. Non esistono due protocolli uguali e questo la dice lunga su quello che è il disservizio. Il disservizio del sistema giustizia, il disservizio del sistema sanitario, il disservizio del sistema politica. Quindi si dice tutto è il contrario di tutto. Conte che fa un provvedimento, la Santelli che fa una cosa diversa, i giudici di Catanzaro che sposano in parte un qualcosa, la Santelli che ritorna perché non si dà per vinta, quindi ritorna con un altro provvedimento. Praticamente ognuno è rimesso alla volontà di Dio, non si capisce niente. Ogni giorno arrivano 400-500 pagine di delibere, di provvedimenti, certificazioni. Ecco, questo stato di diritto è un po' flebile per quanto ci riguarda. Uno stato in cui nessuno risponde a nessuno, si violano circolari, disposizioni. Vabbè, la Calabria tra l'altro si sta caratterizzando per una inchiesta sulla giustizia corrotta, voglio dire. Ecco, questo atteggiamento della politica, del tessuto sociale, troppo allegro, troppo facilone. Cioè si commettono reati facilmente, quasi con una sorta di spregiudicatezza inaudita. Anche chi magari assume ruoli direttivi all'interno della pubblica amministrazione, spesso è arrogante. Ecco, è il frutto di una consapevolezza legata al fatto che ci riconduce alle lungaggini della giustizia, cioè di una magistratura che non funziona? Non è il frutto, è lo specchio della situazione del quadro giustizia, è lo specchio di quello che stiamo vivendo. Nel momento in cui il professore Coppi, con il quale amo dialogare per motivi amicali e professionali, si riferisce al ministro Bonafede definendolo una persona improvvisata, non dice altro che la verità. Perché siamo nelle mani di gente che è improvvisata, inadeguata a tutti i livelli pubblici, a tutti i livelli governativi. E gente che lei sicuramente avrà seguito il penultimo responsabile della protezione civile in Calabria. Ma lì veramente neanche Antonio Albanese, nei film comici che ha fatto, da noi purtroppo la realtà supera la fantasia dei film comici che fanno sulla Calabria. È qualcosa di inverosimile, di assurdo, ma è la realtà. Grazie Avvocato per averci accolto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.